di marco benazzi forme geometriche nel buio che ci accompagna voce di lorenzo pieri capitolo ventunesimo il mio racconto più bello è stato concepito alla spiaggia dei gabbiani vicino a portonovo nella riviera del conero luogo di estrema bellezza oggi raggiungibile esclusivamente via mare quando approdai con una canoa presa a nolo rimasi a dir poco estasiato da quel tratto di costa dove il monte si tuffa precipizio e affonda le sue rocce biancastre in acque cristalline ero partito da solo con l'idea di trascorrere un periodo da naufrago di lusso visto le razioni k che avevo portato con me fu un'impresa raggiungere la caletta anche per colpa delle indicazioni sbagliate suggeritemi da un portalettere che incontrai in un caffè di ancona gestito da due gemelli di seul park euneun e park minimi la notte nella mia minuscola canadese dal color bianco falesia mi mimetizzavo completamente e accarezzato dal maestrale sognavo un mondo migliore affogando i dispiaceri nel rum come un babà alla habana una mattina mentre cercavo di smaltire la sbronza con nuotata rinvigorente degna di mark spitz il mio braccio sinistro finì per colpire un contenitore in plastica di colore blu fermando tempestivamente la mia nuotata verso una fine sicura tornai a riva boccheggiando come un pesce rosso affamato e appena ripreso fiato tolsi i sigilli di ceralacca al contenitore e ne controllai il contenuto conteneva un biglietto e una chiave del deposito bagagli della stazione di fano con su stampigliato il numero 62 sul biglietto solo una parola scritta al centro in stampatello aiutami smontai la tenda in fretta e furia e tornai a terra per verificare la veridicità di quell'appello mentre in sella la mia lambretta bicolore del 59 cercavo di raggiungere in colume la stazione di fano decine di domande mi assalivano la mente come ragni su di una farfalla impigliata nella ragnatela da quanto tempo quell'appello era stato dato alle acque cosa avrei trovato all'interno di quella cassetta si trattava di uno scherzo di cattivo gusto o di una triste realtà giunto in stazione mi precipitai al deposito bagagli con il cuore che pompava a mille come una vecchia locomotiva impazzita e dopo un attimo di esitazione tremante come un adolescente al primo appuntamento aprì la serratura la cassetta conteneva una moleskin realizzata a mano a casa nel essi avvidamente il contenuto e rimasi pietrificato da ciò che scoprì era la confessione di una mangiatrice di uomini nel vero senso della parola li abbordava li seduceva li portava nel suo regno poi nel sonno li uccideva nutrendosi delle loro carni e suggendo il loro sangue la data dell'ultimo inserimento era 31 dicembre 1972 si firmava Iacula 1950 mi risvegliai arriva con un bagnino dall'alito pesante che mi schiaffeggiava energicamente sogno o realtà